Ufficiali 90 licenziamenti alla Corber di Mugnano, ora la crisi all'ex Berini è messa nera su bianco. L'azienda ha infatti comunicato l'apertura formale della procedura. Assi viari, gruppo di lavoro per possibili modifiche, un protocollo di intesa per mutare il tracciato degli assi viari su Capannori, ma anche per creare un gruppo di lavoro che esaminerà ulteriori richieste di modifica anche da parte di provincia e comune di Lucca. Il fascino di Isola Santa, un luogo unico e suggestivo, nella verde garfagnana un borgo che in ogni periodo dell'anno sa offrire emozioni uniche, anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Prende forma il giro di Toscana femminile, dopo 12 anni la corsa torna a Quarrata, dove ci sarà anche la presentazione. Confermate le frazioni di Lucca, Montecatini e Segromigno, 28 squadre al via dal 24 al 27 agosto. Ormai è lanciata la volata playoff, a nove giornate dalla fine, la Lucchese occupa il decimo posto, l'ultimo utile per gli spareggi post-season. Intanto la squadra di Maraia prepara la gara interna contro il forte Ancona. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Dunque la vicenda della Corber, adesso è stata aperta ufficialmente la procedura formale per i 90 licenziamenti. Ora la crisi alla Corber di Mugnano è stata messa nero su bianco. L'azienda ha infatti comunicato l'apertura formale della procedura di licenziamento per 90 dipendenti dello stabilimento Experini. Un passo atteso dai sindacati dopo l'annuncio shock di gennaio, ma che ha l'effetto di incanalare su binari precisi la tempistica dell'avvertenza. Da adesso partono infatti 45 giorni entro i quali dovrà svolgersi la trattativa tra azienda e organizzazioni dei lavoratori. Il primo incontro di questa nuova fase è già stato fissato per mercoledì 8 marzo. Successivamente scatteranno altri 30 giorni nei quali potranno entrare in campo gli attori istituzionali come la Regione ed altri enti territoriali. Per il segretario regionale FIOM CGL Massimo Braccini, l'apertura formale della procedura di licenziamento era un passaggio atteso ed inevitabile. Agiremo su pensionamenti, incentivi all'esodo e cassa integrazione, spiega Braccini, secondo il quale questi due mesi di trattative hanno permesso di creare delle basi di discussione incoraggianti. Sullo sfondo rimane la questione del futuro di lungo periodo dell'azienda e della sua permanenza a Mugnano. A questo proposito i sindacati hanno chiesto la presentazione di un convincente piano industriale. Andiamo in Alta Garfagnana. I vigili del fuoco di Castelnuovo sono intervenuti tra Piazza Alserchio e Gramolazzo, dopo l'abitato di Nicciano, per un incidente stradale. Una donna ha perso a controllo della vettura, urtando un muretto a margine della strada. L'auto, come vediamo da queste foto, si è ribaltata, adagiandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, e i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall'auto. La conducente è stata poi trasportata all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana. E rimaniamo in zona, andiamo sul crinale appenninico, perché possiamo dire che il generale inverno, tra fine febbraio e oggi, che è il primo marzo, ha avuto un colpo di coda. Il colpo di coda è legato anche a precipitazioni nevose, decisamente copiose e abbondanti, soprattutto a certe quote, diciamo anche oltre i 900 mille metri, superando quota mille metri. Questa foto ci giunge dal passo di Pradarena, siamo nel comune di Sillano, al confine però con l'Emilia Romagna, e come vedete il paesaggio è tornato ad essere tipicamente invernale. Precipitazioni nevose, di minore consistenza, anche a quote relativamente più basse. Dovrebbe essere, secondo gli esperti, l'ultimo colpo di coda del generale inverno. Un inverno, a dire la verità, che è stato piuttosto siccitoso. Torniamo ad occuparci di un argomento ormai potremmo definirlo quasi antico, quello degli assi viari sulla Piana di Lucchia. Adesso nasce un gruppo di lavoro per esaminare possibili modifiche. Un protocollo d'intesa per modificare il tracciato degli assi viari su Capannori, ma anche per creare un gruppo di lavoro che esaminerà ulteriori richieste di modifica anche da parte degli altri enti coinvolti, provincia e comune di Lucca. Sembra essersi rimesso in moto il progetto della cosiddetta tangenziale lucchese. Lo conferma l'assessore regionale e alle infrastrutture Stefano Baccelli, spiegando che la nuova intesa è già stata condivisa, oltre che con gli enti locali, anche con ANAS e Ferrovie. Questo protocollo prevede di risolvere il caso Sbelli, il passaggio da via Domenico Chiellini, grazie in parte ad un intervento che verrà realizzato da RFI in occasione del raddoppio della ferrovia Lucca Pistoia e all'anticipazione di un tratto di collegamento che ANAS predisporrà, anticipandolo per l'appunto rispetto al secondo lotto. Il protocollo prevede anche la creazione di un organismo per rendere maggiormente partecipativo l'inter di individuazione del tracciato nell'ambito del possibile. Altro elemento cardine di questo protocollo di intesa è la costituzione di un gruppo interforze con i rappresentanti di tutti gli enti locali della regione, di RFI e di ANAS, per recepire le osservazioni recepibili presentate dagli enti locali stessi e quindi in un'ottica di miglioramento dell'intero progetto definitivo per renderlo più accogliente per il nostro territorio. Andrea Marcucci, ospite dei nostri studi della trasmissione sportiva Rombo di Motori, ne abbiamo approfittato per chiedergli un parere sull'esito locale sulle primarie del Partito Democratico. Ma intanto un applauso a Valentina Mercanti, Valentina ha fatto una bella campagna elettorale, ha vinto nel nostro territoriale e lo devo dire soprattutto ha preso parecchi voti in più la sua candidatura per la segreteria toscana rispetto alla candidatura di Bonacini sulla segreteria nazionale, ovviamente grazie anche al suo radicamento. Sì, in parte è un partito diverso, in parte no, ci sono sensibilità e provenienze e storie e sensibilità diverse che hanno portato ad avere dei risultati che non sono omogenei, però la vittoria di Fossi e anche la vittoria a livello nazionale di Schlein sono risultati molto netti e molto chiari, quindi si prende atto che oggi c'è una fase, che c'è una guida, che è una proposta diversa rispetto a quella che avevamo fatto noi riformisti, non è che ci cambi molto, noi eravamo già all'opposizione con Zingaretti, io un riformista del PD ero già pesantemente all'opposizione all'epoca della candidatura a Zingaretti appoggiare Martina. Diverso era il ragionamento sulla Toscana, però oggi le cose sono queste e cerchiamo di gestirle al meglio e di capire se ci sono le condizioni, mi auguro di sì, perché il Partito Democratico continui pur avendo sensibilità diverse. Certamente ci sono alcuni valori fondanti sui quali ci confronteremo e cercheremo di capire se queste condizioni effettivamente ci sono o meno. Lutto per la scomparsa di Gabriella Moruzzi, ex difensore civico della provincia di Lucca, era la madre del capogruppo del PD in Consiglio Comunale Francesco Raspini. I funerali si terranno giovedì 2 marzo alle 15 a San Martino in Vignale, ai familiari le più sentite condoglianze di tutto lo staff di Noi TV. Parliamo adesso della giornata mondiale dei disturbi del comportamento alimentare. Porta Elisa è illuminata di Lilla, iniziative culturali e interventi nelle scuole per sensibilizzare l'opinione pubblica sul delicato tema dei disturbi del comportamento alimentare. È il ricco programma di appuntamenti proposto dal Comune di Lucca in vista della giornata mondiale dedicata a tutte le problematiche legate alla relazione con il cibo che ricorre il prossimo 15 marzo. Noi ci siamo come amministrazione, organizziamo dei momenti di approfondimento e verranno fatti insieme in collaborazione con il collega Giovanni Miniti per il sociale. È importante unire sia momenti culturali, di arte, come metteremo in piedi questo fine settimana, ma anche momenti in cui diamo tutta la nostra maggiore solidarietà alle persone che hanno in casa questo problema o che percepiscono che potrebbe esserci potenzialmente questo problema perché siamo solo magari all'inizio. In particolare il Comune ha deciso di sostenere la produzione di un documentario a tema, Parlami di te, curato dagli studenti dell'Accademia Cinema Toscana e di realizzare un'installazione artistica sotto il loggiato di Palazzo Pretorio. Ci sarà la possibilità di partecipare a un'installazione che mostra cosa vuol dire veramente vivere con la malattia e come noi dall'esterno non ci rendiamo conto che cosa può portare alle persone che invece ne hanno sofferto, quindi vedremo il pubblico giudicante ma anche il pubblico che affronta il proprio corpo, quindi è una lotta interna ma anche con il prossimo. In occasione della giornata del Fiocchetto Lilla l'Associazione per la cura del comportamento alimentare organizzerà degli incontri nelle scuole del territorio e domenica 12 marzo una camminata di sensibilizzazione sulle mura di Lucca. Si va alla riqualificazione con i lavori di ristrutturazione del Palazzo delle Muse, ci spostiamo a Viareggio. È iniziato l'allestimento del cantiere dei lavori di ristrutturazione del Palazzo delle Muse di Piazza Mazzini, un intervento dal costo di 2 milioni di euro che prevede il rifacimento delle facciate e della copertura, oltre alla straordinaria manutenzione dei locali del centro d'unumentario storico e la messa a norma di tutti gli impianti. Il 48% dei costi è stato finanziato direttamente dall'ente, mentre il restante 52% è stato ammesso ai contributi del bando Fondo Cultura emanato dal Ministero dei Beni Culturali. È partito il primo dei grandi interventi di opera pubblica che abbiamo aggiudicato alla fine dell'anno e all'inizio di quest'anno, la riqualificazione completa di Palazzo delle Muse, un intervento da 2 milioni di euro che ci consentirà di rifare completamente tutte le facciate del palazzo, la copertura e tutti gli impianti, oltre al centro documentario storico. Quindi è una riqualificazione di uno dei palazzi più importanti del Comune di Viareggio, una vetrina fondamentale per la passeggiata a mare, che partirà stamani mattina con le impalcature, con il cantiere, e che proseguirà fino alla fine dell'anno per il completamento delle opere. Fa il paio con tutti gli altri interventi che sono di prossima partenza, primo tra tutti il cantiere di Via Mazzini. Per cui, diciamo, siamo molto contenti. È il primo passo verso una riqualificazione complessiva di tutta quella zona della città. Prime iniziative del Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane, presieduto da Alberto Veronesi. Sul sito internet del Comitato sono stati pubblicati tre avvisi pubblici per un importo totale di 870 mila euro. Il primo è per la raccolta di proposte progettuali relative alla tutela dei luoghi pucciniani. Il secondo è una manifestazione di interesse per la ricerca di un operatore per l'organizzazione delle manifestazioni relative all'inaugurazione delle celebrazioni pucciniane. Il terzo, infine, è la ricerca di una casa di produzione discografica per la predisposizione di un'edizione speciale Puccini 100, cofanetto integrale dell'opera di Giacomo Puccini. Queste le tre iniziative. Si può parlare di pace in questo periodo ed è importante farlo. Ed è importante mandare messaggi di pace anche attraverso una squadra ciclistica, la Colors for Peace. Anche la Versilia ha la sua squadra di ciclismo professionisti. È stata presentata a Firenze, presso la sede della Robert F. Kennedy Human Rights Italia, la squadra Colors for Peace MGKVS, con sede presso la Proloco di Forte dei Marmi. La squadra continuerà ad avere una matrice italiana e corridori stranieri. La direzione degli undici atleti in organico sarà affidata a Angelo Baldini, Maurizio Frizzo, coadiuvati da Filippo Fuocchi e Diego Cecchi. L'attività del team, categoria continental, sarà incentrata su un calendario internazionale, con numerose trasferte alle gare più importanti in giro per l'Europa. Durante la presentazione, accompagnata da una lettera di augurio scritta alla squadra dal presidente della regione, Eugenio Gianni, si è sottolineato come questa non sia solo una squadra sportiva, ma anche un'ambasciatrice dei valori dell'associazione Colors for Peace di Sant'Anna di Stazzema. La squadra versiliese veicolerà sulle strade italiane ed europee il messaggio di pace che Colors for Peace raccoglie attraverso le decine di migliaia di disegni dei bambini di 141 nazioni nel mondo. Addirittura triplicati nel 2022 gli interventi di Ampana. Con oltre 450 pugli e piccoli selvatici recuperati, il 2022 è stato un anno particolarmente impegnativo per i volontari di Ampana a Lucca. L'associazione ha reso noto il bilancio degli interventi sul territorio durante l'anno passato. Situazione stabile a Porcari, con 32 animali recuperati, in lieve aumento a capannori, 137 recuperi, mentre si segnala in particolare il boom di richieste nell'area del comune di Lucca, che è passata da 82 a 282 animali recuperati. La cittadinanza ogni anno che passa ci scopre sempre più, quindi sanno di questa attività che è cominciata un po' in sordina qualche anno fa, però ora è arrivata a dei livelli molto impegnativi anche per noi dell'associazione. Sono animali che possono andare nei periodi rossi, possono andare da 1 al giorno fino alla 15 al giorno, quindi non sappiamo mai quanti saranno le chiamate. Comunque gli animali vengono portati al Cruma di Livorno, che è il centro recupero indicato dalla regione, è un centro recupero della Lipu, dove vengono curati, assistiti e si sono a svezzare, svezzati e rimessi poi in libertà successivamente. Il vicepresidente di Ampana Lucca, Nicola Fantozzi, segnala alcune criticità emerse durante i servizi, come il problema dei piccioni e adulti feriti, che non possono essere soccorsi, o le richieste di intervento che giungono da comuni non convenzionati, nei quali l'associazione non può operare. Negli ultimi due anni, con l'incremento che c'è stato del costo del gasolio e dell'autostrada, per noi ci sono delle spese che ormai sono insostenibili. Ma speriamo che qualche associazione, qualche ditta ci possa dare una mano per riuscire a coprire quelle che sono anche le spese che maggiormente sosteniamo. Isola Santa, un luogo unico e magico per tutte le stagioni. Se cercate nella verde garfagnana un borgo che in ogni periodo dell'anno sa offrire emozioni uniche, anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale, non vi potete sbagliare. È Isola Santa. L'antico borgo si trova nel comune di Careggine. Oggi si affaccia sul bacino artificiale dell'Enel e anche per questo è diventato un luogo speciale, a origine antiche, in quanto posizionato sulla via che collegava e collega nel modo più rapido la Versilia alla Garfagnana, frequentata nel passato da pellegrini e viandanti. Alla fine degli anni 40 dello scorso secolo la Società dell'Energia Elettrica di allora, la Selt Valdarno, costruì questo sbarramento al torrente Turite Secca, creando un bacino artificiale. Il paese fu abbandonato, mantenendo così ancora oggi preservate tutte le caratteristiche di antico villaggio di montagna. La chiesa, un tempo dedicato a San Giacomo, oggi è sconsacrata. Ora ospita spesso iniziative artistiche. Accanto c'è il bellissimo campanile a forma quadrata che nasconda al suo interno scale a chiocciola davvero molto particolari. Una curiosità sul nome di questo borgo, sembrerebbe infatti che nel passato abbia superato una pestilenza senza registrare morti in paese. Ecco perché si chiama Isola Santa. Un luogo bellissimo dunque, dove però sempre più spesso ci vengono segnalate anche situazioni di criticità, in quanto dopo un temporale il lago cambia colore, acquisendo una colorazione biancastra a causa dell'acqua che arriva dai luoghi più a monte, dove è nata l'estrazione marmifera. Questa mala gestione delle cave a monte ha portato questo inquinamento da marmettola. Ci sta portando a fare denunce, a cercare anche di arrivare poi in tribunale, perché è una soluzione, perché a questo punto l'unica soluzione che vediamo è quella, perché a monte di Isola Santa le uniche attività lavorative sono le cave. Le attività e l'impegno sul territorio della Conf Commercio di Lucca e Massa Carrara con un focus specifico sulla borsa mercato del lavoro nell'ambito dell'ospitalità alberghiere e della ristorazione, in calendario martedì 14 marzo a Villa Bottini. Questi i temi al centro della puntata speciale di Zoom in onda questa sera alle ore 20. Quindi appuntamento assolutamente da perdere. Su questa sigla vi ricordo anche tra gli appuntamenti della serata alle 21.15 per contro e alle 22.15 rombo di motori. Bene, con questo è davvero tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi. Una breve pausa legata adesso ad alcuni preziosi suggerimenti commerciali. Grazie a tutti.